Le dichiarazioni che il sindaco ha rilasciato ledono l'immagine e l'onorabilità della città di Arezzo. Non si può certo affermare che Gelli è un cittadino illustre perché non può essere paragonato ai veri cittadini illustri e anche perché il sindaco ha dichiarato che la vita di Gelli presenta più luci che di ombre. Le ombre le conosciamo e noi vogliamo che il sindaco ci dica quali sono le luci che lui vede nella vita di Gelli. Le istituzioni, ancora una volta purtroppo spesso l'Italia ha visto le istituzioni isolare le personalità veramente illustri ricordiamo Falcone e Borsellino che poi sono fatti stati saltare per aria e porta in palmo di mano personalità di questo calibro. Siamo stanchi di questa cosa e fino a che Alessandro Ghinelli, il nostro sindaco, non rettificherà quello che è stato detto come personaggio illustre Licio Gelli della città di Arezzo quindi rappresentando la città intera diciamo questa considerazione lo riteniamo molto grave. Aspettiamo prima possibile le rettifiche su questa questione perché è inaccettabile. Io andavo a Villa Vanda, hai ragione, ma in altra veste rispetto ad altri che frequentavano quella villa andavamo e ce n'erano, andavamo a portare i prodotti di Liberaterra ricordavamo che purtroppo, dico io, non per fortuna come ha detto Ghinelli Arezzo è stata famosa in Italia anche per questo. Per me è un purtroppo, è una stellina, la stella me la metto per Arezzo Wave la stella me la metto per Piero della Francesca me la metto per tante cose e non certo per Gelli anzi Gelli rappresenta una delle pagine più buie della storia repubblicana e quindi dispiace, anzi direi che dobbiamo essere decisamente contro le dichiarazioni di Ghinelli perché Ghinelli non sono io, non è lui, è il sindaco quello che dice il sindaco purtroppo, per fortuna, anzi per fortuna perché comunque la guida della città viene recepito in maniera importante dalla cittadinanza ecco un sindaco, non si può permettere di dire queste cose Gelli era un farabutto.